La libertà dei ruoli. 8 febbraio 1962. 8 persone vengono uccise a Parigi nel corso di una manifestazione organizzata dalla sinistra francese in risposta all'ondata di attentati emissi in atto dall'OAS. L'organizzazione clandestina, decisa a impedire con ogni mezzo l'indipendenza algerina, approfitta anche dei disordini dell'8 febbraio per far esplodere altre bombe a Parigi. Nonostante il moltiplicarsi delle violenze da parte dell'OAS, a marzo De Gaulle annuncia l'accordo raggiunto con il fronte di liberazione nazionale algerino per tenere in luglio il referendum sull'indipendenza d'Algeria.